Buongiorno a voi, dunque vediamo subito la situazione attuale dall'ultima immagine satellitare. Oggi l'Italia praticamente sgombra da nuvolosità grazie alla presenza dell'alta pressione e garantirà infatti una giornata piuttosto calda e soleggiata. Nel corso delle prossime ore infatti avremo prevalenza di sole sul nostro territorio, giusto un po' di nuvolosità solo fra Calabria e Sicilia. Attenzione al rischio di un po' di instabilità con rischio di rovesce temporali lungo l'arco alpine. Poi tra sera e notte avremo il rischio di qualche temporale sulle Alpi orientali ma attenzione perché avremo anche possibili sconfinamenti sulle pianure del nord-est e sulle coste dell'alto versante adriatico. Per quanto riguarda poi le temperature massime di oggi avremo valori tipicamente estivi con punte massime di 32 gradi al centro nord, caldo anche al sud e sulla Sicilia con punte massime di 30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani sarà molto simile a quella di oggi, avremo ancora prevalenza di sole, aumenterà un po' la nuvolosità al centro nord con il rischio ancora di instabilità lungo l'arco alpine e lungo l'appennino centro-settentrionale. Questa situazione di stabilità continuerà anche nel corso dei prossimi giorni, anzi affluirà dell'aria più calda che durante il fine settimana provocherà un aumento delle temperature al centro-sud e si toccheranno anche punte di 34-35 gradi. ed è tutto.